Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada per incidenti al km 314, 3 km di coda in direzione nord tra Incidereggello e Firenze Sud. Sempre in A1 troviamo coda all'uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. In A11 per traffico, coda e attratti tra Firenze Ovest e Prato Est nella carreggiata in direzione di Pisa. Ci spostiamo in FIPD per lavori, 3 km di coda in direzione Livorno tra La Strassigna e Montelupo e in carreggiata opposta a coda ed un chilometro tra Empoli Est e Montelupo. Siamo al traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata e rallentamenti per incidente su via Marco Polo. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Link con servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.